Eccomi! Sono stata una settimana in paradiso, in Sicilia, mare, templi, relax, beggia-beggia e soprattutto tanto cibo! E oggi vi voglio presentare questi cannoli, la fine del mondo! Ma prima, avete studiato? Non vi nascondete dietro il pc! Vi osservo! Io vedo e sento tutto! Tutto! Come regia? Non capisco! Regia! Ah, sono tutti giustificati perché io non c'ero? Ma per questo dovevano studiare! Come? Va bene, siete giustificati, ma solo per oggi! Vi tengo d'occhio! E ora, non vi resta che gustare con me questi splendidi cannoli! Buon appetito! Come regia! Loro devono prepararli! E allora, seguite la ricetta e preparate questa squisitezza! Io vado a mangiarne un paio prima che si freddino! Come regia? Si mangiano freddi? Oh, e fatti i fatti tuoi! Buon appetito! Buon appetito!